Un omaggio ad un grande artista che ha colorato e raccontato il Molise. Antonio Pettinicchi, uno dei più grandi pittori del Molise, ha raccontato nelle sue tele gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto alcuni episodi storici che hanno caratterizzato questo brutto evento. Uno di questi è stato quello riguardante l'Eccidio dei Martiri di Fornelli, che tutti conoscono ed è rimasto vivo nella mente degli abitanti di Fornelli. Nelle tele del Pettinicchi viene raccontato proprio il massacro effettuato dai soldati tedeschi contro alcuni cittadini locali. Un episodio storico davvero brutale e indimenticato. Grazie ad una donazione dei familiari del compianto pittore modisano, il comune di Fornelli ha ricevuto in donazione del tutto gratuita ben 25 opere del maestro Pettinicchi, con il solo dovere morale di esporre al pubblico. Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco tedeschi, presso un'apposita sala nel piano terra del comune è stata aperta al pubblico la mostra con i quadri del pittore modisano. mostra per la quale la cittadinanza locale sta mostrando davvero molto interesse in questi giorni. L'esposizione delle opere del maestro Pettinicchi rimarrà aperta per tutto il resto dei giorni delle festività natalizie. Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco tedeschi. Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco tedeschi.